Roberto Andreghetti, Vanguardi, Alessandro Cocciadoro in prima fila, Vicky Griff, Paolo Romanelli, Varenna Fass, Mario Minopoli Junior, Vanessa Clemar, Giuseppe Bistone in seconda fila. Con prudenza le cavalle all'esterno della prima fila, mentre Vesna sembra decisamente la più veloce nei confronti di Vale Capar. Poi terza posizione per Vanità, Medes M all'esterno, avanza invece Valkyria Bar che punta in avanti. Poi ancora Vogue B, l'errore in curva da parte di Valkyria Bar, poi anche da parte di Vanessa FB e Vanità Medes M. E dunque resta in vantaggio Vesna nei confronti di Vale Capar, poi terza posizione per Vogue B davanti a Vicky Griff che è partita bene alla seconda fila, Varenna Fass che risale all'esterno, quindi Vanguardia. Le altre ad inseguire, ha sbagliato anche Vanessa Clemar. Sono dunque sei le superstiti della delicata fase iniziale con Varenna Fass che punta decise in avanti. Non ha opposizione da Vesna e imboccando la seconda cura sfila in testa dall'allieva di Mario Minopoli, la nuova leader. Varenna Fass nei confronti di Vesna, poi Vale Capar, ancora Vogue B in quarta posizione a precedere. Vicky Griff e Vanguardia. Sullo svancio a lunga prende vantaggio Varenna Fass con Mario Minopoli. L'errore per Vesna che lascia in seconda posizione a Vale Capar davanti a Vogue B, Vicky Griff e Vanguardia. Il chilometro che va via in un veloce 1.147 da parte di Varenna Fass che ha preso vantaggio a Vale Capar. Cerca ora di ricucire Vale Capar trascinandosi Vogue B, Vicky Griff e Vanguardia. Che però ancora non hanno mosso al paletto dei 1.200, si giunge in 1.29.4 con Varenna Fass in vantaggio. Ma Vale Capar che è ricucito, Vogue B che accenna a spostare in anticipo su Vicky Griff e Vanguardia. E c'è ora la volata finale con Vale Capar che va all'attacco di Varenna Fass. E la attacca a fondo, scatta all'arco di tutti Vanguardia. Sembra avere un passo superiore, sbaglia invece Vicky Griff. Vogue B cala nettamente Varenna Fass ma Vanguardia all'esterno. Sta prendendo il sopravvento, dislancio su Vale Capar, Alessandro Gocciadoro raddoppia dopo Von Weiss a S. Vince facile anche con Vanguardia nei confronti Vogue B e Varenna Fass. Sono queste le quattro qualificate per quanto riguarda le femmine alla finale del Gran Premio Anact di fine mese a Napoli. Sul mio cronometro due minuti secchi per Vanguardia e Alessandro Gocciadoro. 1.15 dunque la media naturalmente ufficiosa per la figlia di Gertmans Wood che ha agito all'estrema attesa ma ha fatto valere parziale superiore in retta d'arrivo. Ha dominato Vale Capar che si era liberata della battistrada Varenna Fassa. Vittoria Netta di Vanguardia e Alessandro Gocciadoro numero 7 davanti al 3 di Vale Capar. Mentre per il terzo posto è emersa Vogue B con il numero 2 e dunque 7-3-2 è l'arrivo ufficioso della quarta di Capanelle il 9 a completare le qualificate per la finale. Vittoria Netta di Vanguardia